Fiamme e fumo poco prima delle 22.30 di ieri sera, in via dei Pioppi a Trebaseleghe nell'Alta Padovana, a fuoco otto garage affiancati alle abitazioni. Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se i danni sono ingenti. Molti i vigili del fuoco giunti sul posto da Cittadella, Padova, Castelfranco e i volontari di Borgoricco. 17 pompieri, 3 autopompe, 2 autobotti. Nel rogo sono bruciate 4 autovetture, 2 moto, diverse biciclette e materiale depositato nei box. All'interno di essi erano presenti anche delle bombole di GPL. Coinvolto nel rogo anche l'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto dei garage. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo e bonificare l'area. Le operazioni si sono concrete solo alle 4 di questa mattina.